ecco qua finalmente martedì stasera c'è l'ottava puntata e sarà un'ottima puntata siamo nel set ancora a lavorare purtroppo e sta piovendo a birotto qui forse ci sarà un hashtag anche in italiano mi hanno detto che sarà probabilmente segui l'amore o qualcosa del genere vediamo e ci si vede ciao